benvenuti al progetto art school questo è un esercizio musicale dal titolo adagio adagio vuol dire lento lentamente in altre parole la melodia la musica e la canzone devono essere eseguite suonate con un ritmo lento ed orecchiabile in questo esercizio musicale sarai invitato a riconoscere ad esercitarti e ad esprimerti sull'adagio in melodie e composizioni conosciute in fraseggi musicali propri o di altri attraverso anche qualche storia musicale sarà l'occasione per essere introdotti all'adagio per comprenderlo e per farlo proprio questo esercizio mira a promuovere la capacità dell'ascolto della concentrazione e di reagire ma anche a prendere iniziativa pensare e riflettere esso aiuta anche a migliorare l'espressione di sé la comunicazione la fantasia la creatività e la gioia dell'apprendimento per altri esempi e chiarimenti consulta il manuale cartaceo e ora tocca a te buon esercizio e se vuoi vedere altri video vai sul sito web art school punto eu a te buon esercizio e se vuoi vedere altri esempi e se vuoi vedere altri esempi e se vuoi vedere altri esempi a te buon esercizio a te buon esercizio